buonasera benvenute e benvenuti a questo evento di presentazione delle lauree magistrali del dipartimento di ingegneria io sono daniele passeri delegato all'orientamento del dipartimento e ho il piacere di introdurvi a questo evento e lo faccio lasciando subito la parola al professor andrea dischino presidente del corso di laurea in ingegneria industriale presso la serie di termini grazie e buon lavoro a tutti grazie daniele grazie a tutti voi che partecipate a questo evento grazie alla vostra presenza intanto vorrei condividere lo schermo se ci riesco mi presento mi chiamo andrea dischino sono il presidente del corso di laurea in ingegneria industriale dell'università di perugia qui presso la sede di termini quello che vogliamo fare oggi è presentarvi l'offerta formativa quali sono i punti di forza del nostro corso di laurea cercando così di dare un focus su quali sono i motivi per cui un giovane dovrebbe secondo noi secondo quelle che sono le nostre idee secondo quelle che sono le nostre aspettative segnati a un corso di laurea in ingegneria industriale magistrale presso una secondo uno dei siti no più propri della dell'industria nel nel territorio nazionale eh prima di fare questo chiederei al alla regia di lanciare il video di saluto da parte del nostro direttore il direttore del dipartimento di ingegneria professore Ermanno Cardelli che mi ha chiamato poco fa dicendomi che non può non può intervenire direttamente ma ci tiene la propria presenza virtuale mandando un proprio saluto prego alla regia cari ragazzi molti di voi stanno pensando di venire a fare i propri studi in ingegneria e noi vi aspettiamo a braccia aperte come sapete il conseguimento di una laurea in ingegneria vi dà delle possibilità notevoli di impiego nel mondo del lavoro oggi possiamo dire che tutti i nostri laureati trovano immediatamente collocazione nel posto di lavoro questa è una situazione che è comune a tutti gli studi di ingegneria e non solo e quindi potete conseguirla con una laurea anche in altre università nel nostro ateneo e in particolare nel nostro dipartimento troverete una maggiore accoglienza un ambiente a misura d'uomo un modo di lavorare con i docenti sia nelle parti pratiche sia nelle parti teoriche che vi darà tutta la soddisfazione e il piacere dei vostri studi per cui vi aspettiamo a braccia aperte per lavorare insieme. Grazie alla regia ringrazio per questo e il professor Cardelli per questo saluto che è testimonianza tra l'altro appunto della vicinanza del del dipartimento di ingegneria in genere a questo a questo nostro corso di laurea. Ci ho detto vi racconto un attimo come sarà strutturata la nostra presentazione. Io presenterò brevemente quella che è l'offerta formativa del nostro corso di laurea quindi qual è la struttura quali sono gli insegnamenti quali sono no anche le le prospettive per un un giovane laureato che poi eh esca da questo corso di laurea passerò quindi la parola al professor Faba al collega Antonio Faba che vedo che vedo collegato qui con noi che illustrerà come punto di forza quello che noi riteniamo sia veramente la peculiarità di questo corso di laurea e che pensiamo debba essere la la traire in forze come dicono quelli che parlano bene la la forza ehm la forza propellente per cui una persona dovrebbe scriversi a questo ricorso non piuttosto che piuttosto che ad altri presenti comunque del territorio nazionale che è la presenza di laboratori eh assolutamente eh assolutamente davanguardia. Eh quindi se se vedete la presentazione come chiedo conferma di questo eh vi vorrei accennare un attimo a perché ingegneria industriale a Terni. Intanto un attimo qual è la storia no dell'ingegneria eh intanto dicevo due parole su quello che è l'ingegneria a Terni. L'ingegneria a Terni ha una lunga tradizione una lunga tradizione che parte negli anni novanta quando venne istituito qui a Terni un corso di laurea vecchio ordinamento no? In in ingegneria dei materiali. Eh nel corso dei trent'anni le cose sono cambiate come normale che sia l'ingegneria dei materiali ehm si è trasformata dapprima in un'ingegneria dei materiali nuovo ordinamento per poi passare ad un'ingegneria energetica e gestionale per diventare infine nel duemilanove una un corso di laurea triennale in ingegneria industriale al quale non poteva far non far seguito un corso di laurea magistrale a completamento del ciclo di studi nel duemiladieci sempre in ingegneria industriale. Che cosa si impara se si viene a un corso di laurea magistrale a Terni? Ma le parole chiave sono quelle che in qualche modo ho voluto mettere in evidenza ehm impostare, svolgere, gestire attività di eh progettazione dove per progettazione ho detto progettazione ma avevo in mente il termine inglese design e dove con design si intende progettazione ma è progettazione di materiali, nuovi materiali, progettazione di nuovi processi, progettazione in senso stretto no? Da parte dell'ingegnere anche lasciatemi dire meccanico, finalizzato al compito di promuovere e sviluppare innovazione. Quindi ho dato alcune parole chiavi secondo me. Ho detto ingegneria meccanica e ho aggiunto come parola chiave eh materiali, processi, di innovazione. Sono queste quindi secondo me le ehm parole chiavi, no? Le ehm gli items principali quali un giovane laureato magistrale in ingegneria industriale può andare incontro con lo scopo di eh saper selezionare materiali opportunamente in e processi relativi a lavorazioni in funzione di quelle che sono le richieste che poi gli verranno proposte dal mercato. È chiaro che qualsiasi prodotto, qualsiasi processo andremo a sviluppare ehm sarà tale perché c'è un mercato che poi alla fine è quello che comanda ragazzi che ce lo nascondiamo che c'è che ce lo sta chiedendo. Quindi utilizzando adeguati modelli di macchine, impianti, processi industriali finalizzati a un'opportuna opportuni processi di lavorazione. Ci ho detto quali sono i principali sbocchi occupazionali ma ce lo siamo detti in qualche modo no? Vi dicevo eh innovazione, sviluppo di produzione, progettazione avanzata, pianificazione e programmazione, eh gestione di sistemi complessi e questo sia in ambito di quella che può essere la libera professione tipica se volete eh di tante no? Corsi di lauree, tante discipline ingegneristiche sia in modo particolare in questo territorio, in questo tessuto industriale di quella che è la richiesta delle imprese manifatturiere e perché no dell'amministrazione pubblica. Quando parlo di amministrazione pubblica penso alle tante agenzie eh statali eh nelle quali figure di questo tipo sono sempre più richieste immaginiamoci adesso in modo particolare con eh la richiesta di gestione anche no? Da parte del del recovery plan eh quindi no? La la richiesta anche di saper no? Eh bene eh indirizzare tutto quello che ci arriverà alla comunità europea verso quelle che sono richieste di innovazione da parte dei settori industriali che dopo una crisi profonda si troveranno a si stanno già trovando eh a ripartire. Quindi così alcuni numeri che possono essere utili ehm condizioni occupazionali dei laureati magistrali a cinque anni. Questa è una slide che io faccio sempre vedere quando tengo eh interventi di questo tipo. Eh questa è una slide assolutamente generale nel senso che l'ingegneria che vedete qui vedete citata è l'ingegneria è una è l'ingegneria in generale no? Ad oggi l'ottanta l'ottantotto punto cinque per cento dei laureati magistrali in ingegneria a cinque anni dalla laurea trova eh ha trovato un'occupazione a tempo indefinito ehm ma se noi andiamo a vedere e con una retribuzione lasciatemi dire eh anche mediamente alta. Non ho riportato qui la slide per mia mancanza ma voglio sottolinearvi il fatto che questa retribuzione media è una retribuzione media che in genere non tiene conto di differenze eh di genere cioè avevo anche uno splitting di quella voce tra eh uomini e donne e vi posso dire che la differenza posso considerarla assolutamente inesistente. Andiamo un attimo un po' più nel dettaglio guardiamo un attimo qual è la richiesta eh di lauree di da parte no? Da parte di aziende. Come vedete l'ingegneria meccanica la fa ha ha valori molto alti altre tante ha valori eppure mediamente alti quella la 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 corsi laurea magistrale noi in ingegneria di processo e materiali è chiaro che un corso di laurea assolutamente trasversale come quello che vi stiamo proponendo in cui vi dicevo qualche slide fa si coniugano no? Le competenze dell'ingegnere meccanico e del del e dell'ingegnere piuttosto che dello scienziato dei materiali è chiaro che dal mio punto di vista non può che non essere una scelta vincente. Il fatto che sia una scelta vincente non è soltanto il mio punto di vista perché faccio questo mestiere ma deriva anche dal fatto ehm torno un attimo indietro che questo numero dell'ottantotto punto cinque per cento eh di di assunti dal dalle aziende a cinque anni nella nostra esperienza qui ternana diventa cento per cento a lasciatemi dire meno due mesi non cinque anni voglio dire che la nostra esperienza qui a Terni eh tipicamente quella di ehm giovani che vengono a discutere la propria tesi di laurea magistrale già con una proposta eh di lavoro in mano. Questo è un dato su cui dobbiamo riflettere che ci fa riflettere non su cui dobbiamo riflettere ci fa riflettere che deriva dal fatto che la i nostri giovani già in già in fase di eh programmazione di tesi di laurea vengono inseriti in un contesto lavorativo eh complice il fatto che siamo in un tessuto estremamente fertile da quel punto di vista no? Ricco di eh aziende che ci stanno chiedendo una formazione di questo tipo e che quindi in quanto tali eh molto spesso eh escono da una da un percorso accademico già con una già con un'esperienza lavorativa importante che qualora eh non gli non permette a loro di essere inseriti nella realtà nella quale hanno sviluppato la tesi quello non è un must eh permette comunque loro di inserirsi in realtà assolutamente a fine. Come si ottiene tutto questo? Come si realizza tutto questo? Che cosa si studia per arrivare a tutto questo? Vi faccio vedere brevemente senza non voglio annoiare ehm quelli che sono un po' i contenuti no? In termini di di insegnamento da parte nei due anni del del corso di laurea magistrate. Vedete eh concetti di energetica, sistemi energetici innovativi, impianti termotecnici, meccanica applicata, produzione industriale, torniamo a quelle parole chiave che vi citavo prima eh elettrotecnica, quindi circuito per modellamento di sistemi e processi, oltre ovviamente a eh motori a combustione interna, fluido, dinamica, progettazione di sistemi industriali e c'è una forte componente in materiali che include sia competenze per quello che riguarda le tecnologie di materiali polimerici, il nostro era è tuttora un territorio nel quale la richiesta no? Di esperti di di materie, di ingegneri su materiali plastici piuttosto che compositi è estremamente alta quanto quello eh abbiamo qui a cinquecento metri della nostra sede una delle maggiori realtà industriali in campo siderurgico eh quando quindi quella delle tecnologie metallurgiche. Tutto questo si traduce in collaborazioni con il contesto industriale in qualche modo ve lo stavo già accennando prima estremamente alto. Vedete qui quale sono le alcune delle principali aziende io non riportare alcune chiaramente nessuno me ne voglia eh che collaborano con il nostro corso di laurea. Eh alcune sono aziende del territorio vi citavo acciai speciali terni in qui a cinquecento metri. La Fucine Umbre che è un'azienda leader eh nella produzione di componenti forgiati per il settore aeronautico. In Umbria abbiamo un settore aeronautico eh estremo un estremamente importante estremamente innovativo. Eh il CSM Centro Sviluppo Materiali che è uno dei centri eh una delle mi piace chiamarla una delle compagnie di ricerca leader in Europa più che centro di ricerca. È una società privata che ehm impegnata in ricerca su materiali eh in generale ma in particolare su materiali metallici ad ampissimo razzo. La Tarket per cambiare un altimo settore ma venire accanto a queste che sono realtà lasciatemi dire locali si rivolgono a noi ehm realtà che potrebbero tranquillamente rivolgersi presso Atenei dislocati in tutte altre regioni. Eh cito il gruppo Civitale Civitale del Friuli si chiama quindi immaginate voi dove sia ehm eh vi cito la Farra la Farsa per Fonderia Acciaieria del Royale che è una fonderia acciaieria appunto sempre in Friuli. Cito la Marce Gaia. Guardate la Marce Gaia per esempio insieme ad Accia Speciali Terni insieme all'Istituto Italiano di Saldatura che è questo altro eh che è un altro riferimento importantissimo in Italia. Un riferimento importantissimo perché adesso fanno riferimento tanto tutte quelle aziende impegnate nel mondo della dei prodotti saldati a partire da giganti come Fincantieri. Ecco queste aziende per esempio ci stanno supportando cioè hanno supportato alcune nostre attività in un importante progetto di ricerca che stiamo conducendo con la Evraz che invece è una multinazionale russa per esempio che dopo aver attivato attività di ricerca con vi cito la Colorado School of Minds eh negli Stati Uniti come ovviamente eh la Academy University che è uno dei centri di ricerca sui materiali metallici leader in Europa ehm eh piuttosto che il Chimab in Svezia in Italia si è rivolta al nostro corso di laurea con il supporto eh con il supporto intendo ehm non soltanto eh non soltanto di spirito da parte di AST gruppo eh gruppo Civitale e Marcegaglia. Tutto questo si traduce quindi in eh di riflesso sui nostri ragazzi che eh mediamente che da mediamente danno una valutazione estremamente positiva no? A quella che è la didattica che viene condotta nell'ambito del nostro corso di laurea. Ragazzi la didattica a livello di corso di laurea magistrale deve essere una didattica dal mio punto di vista di questo sono convinto e me ne sto facendo eh promotore giorno dopo giorno. Deve essere una didattica che tenga conto di eh quelle che sono le richieste più avanzate in quel settore. Quindi avere contatti così ampi no? Col col mondo industriale si 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 traduce in possibilità di trasmettere ai giovani informazioni altrettanto avanzate di metterli in contatto con informazioni con realtà altrettanto avanzate e quindi di conseguenza di ottenere una risposta che come vedete è alta. Ora non so se non voglio entrare nel dettaglio ma chiaramente la zona verde è la zona del gol la zona rossa è la zona è la zona del fallimento vedete ci sono alcuni punti che si avvicinano anche eh a un valore massimo che è quello di dieci. Tutto questo si traduce come risultato perché tu dici potessi lavorare con i massimi ehm players del mondo ma alla fine non riesci a non riesci a rispondere si traduce in realtà con una valutazione di quelle che sono le attività di ricerca condotte da membri del nostro corso di laurea estremamente elevate ehm vedete qui c'è la graduatoria in alcuni settori volutamente non cito il mio che è la metallurgia eh di alcuni settori nell'ambito della valutazione nazionale della ricerca. Ci sono alcuni settori faccio eh riferimento alla fisica tecnica ambientale che è primo in Italia eh faccio riferimento all'elettrotecnica secondo in Italia eh piuttosto che le macchine a fluido eh qui per qualche motivo non è citato la scienza tecnologia dei materiali che è primo in Italia non me ne vogliano eh i colleghi di scienza tecnologia dei materiali ma ci sono tanti gruppi estremamente estremamente eh rilevanti. Quindi che cosa possiamo darvi che non trovate altrove? Possiamo darvi un coinvolgimento in laboratori di eccellenza perché è altrettanto chiaro che i nostri laboratori senza la vostra forza senza la vostra presenza non possono no? Non possono d'altra parte andare avanti. Quindi possiamo dare il coinvolgimento in laboratori di eccellenza a fianco di ricercatori, docenti eh interni al corso di laurea stesso eh e finalizzati a ricerca che invece ci vengono sovvenzionate da realtà eh estere piuttosto che nazionali importanti e che quelle quali quindi entrerete entrerete in contatto. Ho detto estere, l'internazionalizzazione, scusatemi un pappino, è un termine eh al quale riteniamo pure molto. Il nostro corso magistrale in industriale è un corso ad oggi a doppio titolo il che significa che eh c'è la possibilità, non è mandatorio, c'è la possibilità da parte di studenti iscritti al nostro corso di laurea magistrale di eh conseguire nello stesso tempo anche il titolo di Master Science in the Field of Power Engineering presso l'Università Politecnica di Varsavia. Vi posso dire che la cosa è qualche anno che va avanti, ci sono stati i nostri studenti che si sono eh a che hanno trascorso parte del proprio tempo della propria formazione presso l'Università Politecnica di Varsavia e che presso la stessa hanno sostenuto alcuni esami e hanno sono riusciti a intrattenere no dei rapporti eh con la stessa. Ovviamente quello che facciamo non ce lo inventiamo di notte come dico io ma viene indirizzato da un comitato di indirizzo eh del quale fanno parte le massime istituzioni locali. Come vedete c'è il comune interni piuttosto che compiindustria piuttosto che piuttosto che ARPA, Camera di Commercio eh il Ministero dell'Interno attraverso la presentanza della Prefettura e che periodicamente, mediamente una volta all'anno si si riuniscono, fanno un po' il punto sulla situazione e cercano di capire come e dove rindirizzare se è necessario il contenuto del corso di laurea stesso. Dulcis in fondo se così posso dire. Dulcis in fondo? Sì. Eh la nostra sede. Eh dico Dulcis in fondo perché effettivamente la nostra sede eh ad oggi non è una sede particolarmente attraente, particolarmente promettente. Dico ad oggi, anzi a ieri permettetemi, ad oggi pare è detto male. Eh in realtà ehm il sito di Pentima sta eh sta iniziando per il sito di Pentima un processo di profonda eh ristrutturazione che vede eh impegnate e su eh istituzioni quali la regione piuttosto che che altre istituzioni eh l'università stessa chiaramente e che porterà alla formazione, alla nascita di un vero e proprio campus universitario. Vi faccio vedere alcune slide che eh spero di vedere di di quello che sarà la Pentima domani che spero di vedere eh spero di vederlo presto sto domani diciamo eh come vedete poter porterà un campus universitario estremamente innovativo anche dal punto di vista del del design e che vedrà presso la nostra struttura accanto ai corsi di laurea in ingegneria la presenza anche di un di di altri corsi di laurea istituiti da altri dipartimenti ehm e che quindi porteranno se volete anche una commissione culturale eh termine mi piace molto tra eh tra giovani di diverse discipline che potranno vivere una vita universitaria che altrettanto importante che non quella delle competenze strettamente ingegneristiche delle quali vi stavo parlando un attimo fa ehm qui presso la nostra città. Allora ho cercato di essere breve perché mh la regia mi ha detto mi raccomando professore cerchi di stare nei tempi eh spero che il messaggio che di avervi lanciato un messaggio del fatto che il nostro corso di laurea eh lo dico non da presidente del corso di laurea ma lo dico da se volete da eh da cittadino prima che da docente possa veramente essere una scelta vincente per un giovane di oggi. In modo particolare ve l'ho lanciato il messaggio ragazzi in questo momento in cui eh figure di questo tipo eh complice anche il compice anche il recovery fund eh richiede figure di questo tipo. Eh quindi spero di incontrarvi quanto prima presso la nostra sede. Eh ovviamente noi siamo a disposizione come dicevano all'inizio per domande anche qui in chat. Eh vi lascio comunque i miei contatti chi vuole se li può segnare ehm la la mia mail il mio il mio numero di cellulare eh chi chi mi conosce sa che rispondo sempre magari giorno e notte ma rispondo sempre eh quindi ehm non esitate se avete bisogno di informazioni aggiuntive. Ciò detto io lascerei la parola al al collega ad Antonio Faba eh al quale eh col quale avevo chiesto e col quale abbiamo programmato una presentazione più dettagliata sul nostro punto di forza che a questo punto dovreste aver capito qual è. È il nostro è la presenza di laboratori. Ragazzi chiunque ci venga a trovare dice ah non me l'immaginavo che ci fossero questi laboratori a pentima. Sono veramente eh innovativi in molti casi ehm e in molti casi direi unici eh nel territorio nazionale se non europeo. interrompo la conversa la la condivisione e Antonio ti lascio la parola. Grazie Andrea. Ok allora avvio la condivisione del mio schermo. Allora grazie Andrea di avermi passato la parola e eh io inizio la mia presentazione che ha come oggetto principale la descrizione del di quella che è la caratteristica principale nel nostro corso di laurea in ingegneria industriale e magistrale che sono i laboratori. Allora nella prima diapositiva che vedete qui al centro c'è una fotografia che ritrae il sito di pentima qui a Terni eh dall'alto. Vedete che è un sito molto ampio dove ci sono diversi edifici eh alcuni edifici sono adibiti per gli studi dei professori altri edifici sono in fase di ristrutturazione e di miglioramento come è stato descritto dal professore Dischino che riguarderanno anche la mensa, il bar, le strutture ricettive per i nostri eh studenti ma eh principalmente vorrei attrarre la vostra attenzione su questo edificio qui centrale molto grande che per la parte diciamo periferica più esterna ospita le aule didattiche dei nostri dove i nostri studenti seguono le lezioni e nella parte diciamo più centrale invece questo edificio ospita eh quella che è la caratteristica principale eh ospita i nostri numerosi laboratori eh che eh sono distribuiti su diverse centinaia e migliaia di metri quadrati eh tutte le discipline che vengono proposte nel nostro corso di laurea in ingegnere industriale in particolare eh magistrale dispongono ognuna di uno specifico laboratorio che eh ha al suo interno attrezzature e apparecchiature che sono all'avanguardia che permettono ai docenti e ricercatori di questi laboratori di svolgere la propria attività di ricerca a livello internazionale e ad acquisire quindi quelle esperienze e quelle conoscenze che poi inevitabilmente vengono riflesse sulla didattica e in particolare sui nostri studenti dell'ingegneria eh magistrale questo perché perché ovviamente ehm la differenza principale tra l'ingegneria industriale triennale e quella magistrale sta nel fatto appunto che nell'ingegneria industriale triennale lo studente è accompagnato e eh diciamo gli vengono impartite conoscenze e competenze tali da poter affrontare quelle che sono le tecnologie tradizionali e sistemi produttivi industriali eh ormai già consolidati. Nella ingegneria ehm nella laurea magistrale invece i nostri studenti vengono accompagnati e avvicinati a quella che è l'attività un po' più prossima alla ricerca, all'innovazione tecnologica che permetterà loro poi di acquisire quelle conoscenze e quelle competenze che eh li rendono particolarmente solidi per poter affrontare poi il mondo del lavoro e eh poter trovare impiego nelle aziende dove possono dare un loro forte contributo all'innovazione tecnologica che è importante proprio per la competitività delle aziende stesse. Facciamo un piccolo tour dei nostri laboratori. Allora andiamo al laboratorio di scienza e tecnologia dei materiali. Tutti voi sapete che a Terni c'è una grande tradizione nella scienza e tecnologia dei materiali. Il primo corso di ingegneria che è nato a Terni era proprio in ingegneria dei materiali. Quindi il nostro corso di laboratorio è ingegneria industriale, industriale magistrale, non può che non affondare le proprie radici nella scienza e tecnologia dei materiali. In questi laboratori numerosi docenti e ricercatori svolgono attività eh su diversi filoni che riguardano i materiali polimerici, materiali compositi, materiali nanostrutturati. Utilizzano attrezzature e apparecchiature all'avanguardia che permettono a loro in prima battuta ma poi anche ai nostri studenti durante l'esercitazione di laboratorio o durante lo svolgimento delle tesi di laurea di poter progettare materiali, componenti, realizzarli e poi poter anche analizzare eh le proprietà fisico, chimiche, meccaniche di questi materiali attraverso tutte le apparecchiature che sono a disposizione nel 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 laboratorio e questo fa sì che i nostri studenti possano acquisire quelle competenze che eh servono in maniera particolare e poi nelle attività professionali una volta conseguita la laurea sono pronti per poter diciamo interagire col mondo del lavoro avendo delle competenze sicuramente elevate dal punto di vista dello studio e della sperimentazione dei materiali. Terni è una città fortemente industriale, a vocazione industriale e in particolar modo è presente a Terni uno dei polisiderurgici più importanti d'Italia se non d'Europa e quindi ovviamente il nostro corso di laurea in ingegneria industriale non poteva eh diciamo trascurare la metallurgia. Noi abbiamo un laboratorio di metallurgia, un docente, dei ricercatori eh in questo settore scientifico disciplinare che lavorano all'interno di questo laboratorio e utilizzando le apparecchiature che potete vedere qui in queste eh questa diapositiva possono realizzare delle analisi, progettare dei componenti, dei materiali in particolare eh in riferimento a leghe metalliche, leghe metalliche leggere di varie tipologie che eh possono eh diciamo fornire delle risposte da un punto di vista non solo scientifico ma anche da un punto di vista professionale rispetto alle aziende del territorio. Ci sono tantissime collaborazioni tra il nostro laboratorio di metallurgia e l'azienda del territorio e non solo del territorio. Ebbene questo punto è fondamentale perché? Perché i nostri studenti in particolare quelli dell'ingegneria magistrale in industriale hanno la possibilità di svolgere esercitazioni di laboratori o tesi di laurea non su dei componenti, su dei campioni eh realizzati per eh motivazioni puramente didattiche. No, possono effettuare questi loro lavori direttamente su degli progetti industriali veri attraverso le collaborazioni che il laboratorio ha con le aziende esterne. Ovviamente qui vengono trattati i processi di produzione dei componenti sia di tipo tradizionale ma si fanno indagini anche sui sistemi innovativi di produzione come per esempio la stampa 3D dei materiali e dei materiali metallici e ultimamente anche dei materiali metallici magnetici. Questo per dire quanto è eh diciamo forte l'interazione dei nostri laboratori con le realtà esterne e con l'innovazione tecnologica ovviamente. Ok, i materiali sono importanti però poi a un certo punto noi dobbiamo trovare una sintesi. Questi materiali ovviamente possono essere utilizzati in diverse, per diverse applicazioni. Una di queste ovviamente è la scienza delle costruzioni. Nel nostro corso di laurea e nel sito di Pentima che vi ho fatto vedere prima nella slide iniziale è presente un laboratorio di scienza delle costruzioni di grandi dimensioni. Vedete qui dalle foto, capite bene, un laboratorio molto ampio dove sono presenti tantissime strumentazioni, apparecchiature anche queste di grosse dimensioni che permettono di effettuare test, verifica e collaudi sui materiali specifici per l'edilizia. Ebbene questo laboratorio è di particolare importanza del nostro territorio perché è un laboratorio di riferimento per tutte le aziende che si occupano di edilizia nel nostro territorio e che si rivolgono a questo laboratorio per effettuare le certificazioni relativamente ai campioni dei materiali che loro utilizzano per la costruzione degli edifici e di tutte le strutture, diciamo, edilizie in cui sono coinvolti. Ebbene, quindi ancora una volta lo studente nell'ingegneria industriale magistrale ha la possibilità di interagire con queste apparecchiature. I laboratori sono molto ampi, ci sono molte apparecchiature e gli studenti quindi tipicamente vengono seduisi in piccoli gruppi e possono utilizzare direttamente tutte queste macchine, tutti questi apparati e svolgere quindi delle attività che li porta ad assumere delle conoscenze e delle competenze molto prossime a quelle delle attività professionali, diciamo, che poi possono sperimentare una volta finito il percorso, finito il percorso, diciamo, universitario. Ebbene, abbiamo parlato di materiali, abbiamo parlato quindi di scienza delle costruzioni, quindi delle strutture, materiali e strutture, ovviamente un'ulteriore declinazione di queste conoscenze può essere quella relativa alla produzione, alla trasformazione dell'energia. Vedete, in questo nostro percorso io sto semplicemente, diciamo, indicando una alla volta a tutti i nostri laboratori, ma tenete presente che queste discipline legate ai diversi insegnamenti che sono presenti nel nostro corso di laurea interagiscono tra di loro. Il nostro corso di laurea non è semplicemente un corso di laurea multidisciplinare. Vedete, siamo partiti dai materiali, alla scienza delle costruzioni, adesso vi parlerò di fisica tecnica, macchine, poi più avanti di elettrotecnica, elettronica, informatica. Non è semplicemente multidisciplinare, è un corso di laurea interdisciplinare, perché tutti questi laboratori, i docenti, i ricercatori di questi laboratori interagiscono tra di loro nelle attività di ricerca. Vi farò poi alla fine un esempio. E ovviamente questa interazione viene riflessa poi nella didattica. I nostri studenti, quindi, come giusto che sia, un laureato in ingegneria industriale deve avere una cultura, una formazione multidisciplinare, ma sperimenterà il nostro studente anche la capacità di interagire, di interazione tra le varie diverse discipline. Questa è una delle caratteristiche fondamentali del nostro corso di laurea. Qui vedete le foto dei nostri laboratori di macchine e fisica tecnica. Ancora una volta le foto testimoniano grandi spazi e grandi impianti. Gli impianti plota. Vedete qui sulla sinistra c'è un impianto di piroliti e una piccola centrale elettrica. La potenza si aggira intorno ai 100 kilowatt ed è però un impianto, diciamo, una piccola centrale elettrica non di tipo tradizionale, ma un impianto pilota, un impianto sperimentale, dove le biomasse vengono utilizzate per produrre energia elettrica. Questo fa sì che il giovane laureato, il neoreato in ingegneria industriale magistrale, ha avuto la possibilità di vedere come si progetta, come si migliora, come si gestisce un impianto pilota, cioè un impianto che guarda allo sviluppo e alle nuove tecnologie. Non solo sulla produzione di energia relativa alla conversione di biomasse in energia elettrica, ma ad esempio un altro impianto pilota, quello relativo all'interno del laboratorio di fisica tecnica, per esempio è quello delle celle a combustibile a carbonati fusi. Ovviamente l'idrogeno e le celle a combustibile sono un argomento estremamente importante e di grande e di forte innovazione tecnologica, ma in particolare queste sono impianti a carbonati fusi che ancora di più hanno una caratterizzazione di forte innovatività. Quindi i nostri studenti hanno la possibilità di sperimentare queste nuove tecnologie, ma soprattutto assumono la capacità di gestire un nuovo progetto, un qualcosa che non sia una procedura ormai consolidata e tradizionale, ma imparano ad esplorare nuove possibilità. Questo è un elemento chiave che poi potrà essere poi sviluppato e utilizzato e sfruttato una volta che il nostro studente, finito il percorso universitario, si troverà a dover interagire con le aziende esterne e ad affrontare il lavoro professionale. Ovviamente materiali, strutture, energia, a un certo punto arriviamo a quello che è la gestione elettrica ed elettronica di tutti questi sistemi, perché ovviamente l'industria è legata alle macchine, agli impianti, nell'industria si fa un grande uso di energia, di energia elettrica e quindi l'elettrotecnica ovviamente è presente nel nostro corso universitario in maniera abbastanza importante ed è presente con dei laboratori d'eccellenza. Vedete qui sulla sinistra questa foto, è la foto di un laboratorio, una camera schermata e semi-anecoica. Tenete presente che in Umbria ne esistono soltanto due in tutta la nostra regione, una è presso un'azienda di Foligno, l'altra è qui, presso il nostro corso di area di Terni ed è una sala prove, questa qui che vedete, dove vengono collaudate e testate le apparecchiature elettriche e elettroniche utilizzate nell'industria, in particolare nell'industria o nei trasporti. Grazie a questo laboratorio noi abbiamo la possibilità di avere grosse e numerose collaborazioni con aziende esterne che portano da noi i loro prototipi per essere pestati e validati e per effettuare attività anche di ricerca e sviluppo e innovazione sulle loro macchine e sui loro sistemi. Non solo, i laboratori di elettrotecnica sono diversi e in uno di questi è presente anche una forte componente relativa ai controlli, alle misure, ai controlli nell'industria, ai controlli cosiddetti non distruttivi che sfruttano varie tecniche come le correnti indotte, le termografie, gli ultrasuoni per misurare e controllare la qualità dei prodotti industriali, dei manufatti industriali, in serie o a campione. Quindi anche da questo punto di vista i nostri studenti hanno ancora una volta la possibilità di sfruttare tutte le conoscenze e le competenze che i docenti, i ricercatori di elettrotecnica sviluppano nel corso delle loro attività scientifiche ma anche nel corso delle attività in collaborazione con le aziende esterne. Ancora una volta, ripeto, i nostri studenti durante le loro tesi di laurea hanno la possibilità di lavorare su progetti industriali veri e propri, quindi sullo sviluppo di sistemi innovativi veri e propri per quanto riguarda poi le collaborazioni con aziende esterne. Questo invece, questo laboratorio che vedete in questa diapositiva, è uno degli ultimi che vi propongo, è il laboratorio prove per l'aerospazio. Questo laboratorio è veramente un fiore all'occhiello. In questo laboratorio, anche qui vedete dalle foto, un laboratorio di grandi dimensioni che ospita apparecchiature di grosse dimensioni ed è un laboratorio estremamente importante perché negli ultimi anni ha avuto la possibilità di svolgere attività in collaborazione con le più importanti agenzie spaziali. L'ASI, l'agenzia spaziale italiana, l'ESA, l'agenzia spaziale europea, la NASA, l'agenzia spaziale statunitense. Perché in questo laboratorio è possibile testare tutte le parti, i componenti, gli apparati utilizzati in ambito aerospazio, avionica e spazio. Vedete qui ad esempio, faccio un esempio, sulla sinistra vedete una tavola vibrante per test di vibrazione. In questa tavola vibrante è possibile fare esperimenti e prove su parti di aerei, su parti di elicotteri o su interi satelliti. Sulla destra c'è una camera per test di termovuoto. Ancora una volta, è una camera specifica per effettuare test, sia dal punto di vista della ricerca scientifica, ma anche dal punto di vista proprio ingegneristico, su parti, componenti, apparati che dovranno essere installati nello spazio. Tenete presente che in questo laboratorio sono stati qualificati e collaudati diverse decine di apparati che in questo momento si trovano in orbita attorno alla Terra. Quindi satelliti, parti di satelliti, apparati che sono stati moduli spaziali o sottoparti che sono stati montati sulla stazione spaziale internazionale. Alcune di queste sono state utilizzate e montate direttamente dai nostri astronauti, che tutti voi conoscerete, come Samantha Crius-Troforetti o il nostro astronauta Luca Parmitano, che anche recentemente hanno installato a bordo della stazione internazionale dei sistemi, degli apparati relativamente a degli esperimenti di fisica, che sono stati collaudati e testati proprio nel nostro laboratorio di Terni, qui a Pentima. Ok, ovviamente tutti questi laboratori e tutte queste discipline che fanno capo ai vari insegnamenti presenti nel nostro corso di laurea hanno un comune denominatore che è l'informatica, perché ovviamente tutti gli apparati, tutte le macchine, tutti i sistemi che vengono utilizzati in questi laboratori sono pilotati e permettono l'acquisizione di dati attraverso opportuni software. Ovviamente noi abbiamo un'aula informatica dove i nostri studenti possono imparare a utilizzare tutta la parte software di base e anche software specifici, in particolare per quanto riguarda l'automazione industriale, che è un altro aspetto legato all'ingegneria industriale molto importante. Ci sono software specifici come il LabVIEW, ad esempio, o altri, che permettono proprio di progettare, gestire e controllare interi processi industriali, sistemi, diciamo, tecnologicamente avanzati. I nostri studenti hanno la possibilità di, diciamo, apprendere queste conoscenze, queste competenze specifiche. Ok, l'ultima cosa che vi volevo proporre è questa. Io ho parlato all'inizio di interdisciplinarità. I nostri laboratori collaborano tra di loro, quindi avete visto che ognuno degli insegnamenti, ognuna delle discipline, ha un proprio laboratorio, da un punto di vista, diciamo, tecnologico particolarmente avanzati, tutti quanti, ma c'è anche una forte collaborazione. Questo è un esempio. Vedete qui c'è il titolo, Hydro Tour, è un progetto di ricerca intitolato Hydrogen, Terni, orizzonti dell'università e ricerca, che è stato recentemente, da qualche settimana, approvato e finanziato e che vede il nostro corso di area proprio in prima linea come soggetto proponente di questo progetto di ricerca, nel quale, ovviamente, l'oggetto della ricerca riguarda l'idrogeno, che è una delle tematiche di grande innovatività, alla quale si guarda molto per il futuro dal punto di vista dell'energia, dello sfruttamento energetico e delle risorse energetiche ecocompatibili. Ebbene, l'esempio che volevo portare è proprio questo. Guardate, in questo progetto il gruppo di fisica tecnica, che ho nominato precedentemente, si occuperà, studierà e sperimenterà nuovi sistemi di accumulo dell'idrogeno. Il gruppo di metallurgia ha il suo contributo attraverso lo studio di materiali metallici per il trasporto in pressione dell'idrogeno. Il gruppo di scienze e tecnologie dei materiali studierà materiali pomineritici in forzo per i contenitori in pressione. Il gruppo di elettrotecnica ha un suo contributo scientifico attraverso lo studio di metodi non distruttivi per la verifica dell'integrità dei sistemi di trasporto e di accumulo dell'idrogeno. Il laboratorio prove, per aerospazio e per sistemi di trasporto in genere, darà il suo contributo attraverso l'analisi di stress meccanico, dinamico e termico di questi sistemi di accumulo per il trasporto dell'idrogeno. E infine, una parte del gruppo di elettrotecnica darà un ulteriore contributo attraverso lo studio di sistemi innovativi per ottimizzare la potenza elettrica emessa proprio dalle celle a combustibile che sfruttano l'idrogeno. Quindi vedete che all'interno di un unico progetto tutte le varie discipline interagiscono e danno il loro contributo per fornire un risultato scientificamente valido. Tutto questo però si riflette inevitabilmente sulla didattica. In questa maniera i nostri studenti avranno la possibilità di sperimentare l'interazione tra le varie discipline. Quindi il nostro corso di lato non è semplicemente un corso multidisciplinare, è interdisciplinare perché i nostri ragazzi imparano a far sì che le varie discipline di cui vengono a conoscenza hanno anche la capacità di interagire e di legare tutte le conoscenze che acquisiscono nel nostro corso di lato. A questo punto però direi di sentire direttamente i nostri studenti, anzi i nostri ex studenti che adesso lavorano presso delle aziende e ricoprono dei ruoli anche abbastanza importanti da un punto di vista della responsabilità e ci diranno due parole su quello che è stato il loro percorso formativo qui a Terni nel corso di lato ingegnere industriale magistrale e poi ci diranno anche quello che stanno facendo in questo momento, di cosa si occupano. Quindi io chiederei, a questo punto interrompo la mia condivisione e chiedo alla regia di mandare i contributi dei video selfie dei nostri ex studenti e sentiamo un po' cosa hanno da raccontarci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Franco De Angelis, sono un ingegnere laureato presso l'Università di Studi di Perugia nel corso di Ingegneria Industriale presso la sede di Terni. Lavoro in CBL Electronics, una realtà giovane e dinamica fondata nel 2002 dai tre soci Andrea Cannavici, Massimiliano Bellucci e Fabrizio Lazzari. L'azienda opera nell'ambito della progettazione elettronica gestendo tutto il flusso produttivo, dall'acquisizione della specifica alla realizzazione del prodotto finale. I settori di competenza sono spazio, aeronautica, difesa, semiconduttori ed elettronica di consumo. Nello specifico lavoro nel reparto software ed insieme ai miei colleghi ci occupiamo di sviluppare applicazioni e programmi di test. In particolare i programmi software sono sviluppati principalmente in LabVIEW che ho studiato ed imparato a utilizzare durante il mio corso di laurea. Per me Ingegneria Industriale è stato l'anello di congiunzione tra il mondo accademico e quello lavorativo e che mi ha permesso di acquisire le conoscenze necessarie per lo svolgimento del mio lavoro e dallo stesso tempo mi ha trasmesso la passione e la curiosità che mi accompagnano ogni giorno. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Maccaglia, laureato magistrato di ingegneria industriale con Seda Verdi. Grazie al mio percorso di studi ho potuto effettuare la tesi magistrale a CSM nel centro di chirurghi materiali con Seda All'Asta in cui ho potuto apprendere tutte le conoscenze della metallurgia e dello stampaggio a caldo dei metallurgi. Grazie a questo mio percorso sono riuscito dapprima di effettuare la discussione della tesi a trovare l'occupazione. Ad eppad oggi lavoro presso Cucine Ombre, un'azienda del territorio ternaio e mi occupo del processo di stampaggio a caldo e le levie metalliche. Grazie a questa mi occupazione riesco a dialogare con i massimi esponenti del mondo aureonatrico senza difficoltà. Buongiorno a tutti, sono Silvia Mancini, ricercatrice del centro di sviluppo materiali e terza studentessa del corso di data di ingegneria industriale presso la sede di Terni dell'Universale di Studi di Perugia. Già nella fase di sviluppo della mia testa sono entrata in contatto con importanti realtà industriali, in particolare ho svolto il mio lavoro di tessi nel Pina Consalti, centro di sviluppo materiali, che hanno dei maggiori centri di riferimento in Europa per quanto riguarda i materiali metallici. Nel mio lavoro seguo attività del territorio sia internazionale sia nazionale e da subito mi sono trovata a dialogare bene con le varie realtà grazie alla preparazione acquisita in ambito universitario. Parallelamente ho scelto di percorrere un percorso di dottorale in ingegneria industriale dell'informazione presso l'università che mi ha formato e adesso seguo in qualità di tutor dei ragazzi che stanno seguendo questo percorso. Ingegneria industriale per me non è soltanto un percorso accademico, ma è anche un percorso che mi ha permesso di acquisire sia le abilità tecniche sia le soft skills che sono entrambi richiestissime nel mondo del lavoro di oggi. Ingegneria industriale al termine dunque è sia un'opportunità per avere una vasta serie di opportunità nel mondo del lavoro, sia una grande famiglia. Salve a tutti, mi chiamo Giuseppe Napoli e sono un ex studente dell'Università degli Studi di Perugia che ha frequentato il corso di ingegneria industriale presso la sede di termine sia per il corso di laurea triennale sia per il corso di laurea magistrale. Sin dalla fine della laurea magistrale ho potuto mettere a frutto le competenze acquisite durante il percorso di studi svolgendo la tesi di laurea presso l'Access Speciali Termi. In seguito all'area magistrale ho deciso di approfondire ulteriormente le tematiche relative all'ingegneria industriale svolgendo un dottorato in ingegneria industriale per informazione con una borsa di studio finanziata da l'Access Speciali Termi ed oggi terminato il dottorato sono un ingegnere di processo dell'area a frutto sempre presso l'Access Speciali Termi. Il percorso di studi che ho compiuto presso il corso di laurea in ingegneria industriale mi ha permesso di acquisire molte delle art e delle soft skills che ad oggi sono richieste dal mercato del lavoro. Un altro punto di forza è il rapporto diretto con le maggiori aziende del territorio che danno la possibilità agli studenti di svolgere tesi e percorsi formativi che permettono di gettare un occhio sul mondo del lavoro direttamente durante il percorso di studi. Anche il rapporto con i professori e con i ricercatori presenti nella sede di Terni è un aspetto fondamentale del percorso di studi perché mi ha consentito di confrontarmi molte volte con i professori sia per problematiche della vita e degli esami sia per comprendere al meglio ed approfondire anche sul campo le tematiche studiate sui libri attraverso esperienze di laboratorio mirate. Buongiorno, sono Sabrina Mengaroni, sono una ex studentessa del corso di laurea di ingegneria di Terni e ad oggi ricopro il ruolo di responsabile di produzione in un'importante azienda del territorio e mi occupo della produzione e della manutenzione di linee di trattamento termico e decapaggio per la produzione di acciai inossidabili. Sono passati circa 10 anni dalla mia laurea e negli ultimi 10 anni ho avuto modo di lavorare in ambiti di ricerca e sviluppo, ingegneria dei processi, sono stata responsabile dei laboratori ed infine ricopro il ruolo di responsabile della produzione come prima dicevo. Il mio ruolo richiede delle attitudini sia tecniche che ho appreso durante il mio percorso di laurea, al corso di laurea di ingegneria di Terni e delle competenze che sono invece puramente gestionali in quanto coordino un team di circa 150 persone. La scelta del corso di laurea di ingegneria di Terni è una scelta che rifarei perché mi ha permesso di dialogare e di prendere parte a progetti di ricerca e di sviluppo piuttosto che affrontare problematiche legate alla produzione con degli specialisti in ambito nazionale ed in ambito internazionale, sentendomi a loro pari. Ringrazio la regia per questo contributo. Non so, penso che siamo stati perfettamente nei tempi, no? Nel senso, ci avete chiesto circa 50-55 minuti, siamo tutto perfettamente calcolato. Non so, se ci sono domande, aiutatemi a vedere dove si leggono. Oppure guidate voi a questo punto la discussione. Posso leggere un commento? È uno spettatore che ci ringrazia per la presentazione, non può intervenire perché in questo momento è impegnato diversamente, complimenti per l'organizzazione, ci contatterà privatamente. Ecco, ovviamente anche altri che non possono intervenire in questo momento, non vogliono intervenire in questo momento, possono contattarci anche successivamente. È più bravo di me, io non riesco neanche a vedere dove si leggono. È su domande e risposte. Ah, spettatore anonimo, ok. Ok. Vabbè, io penso che a questo punto possiamo anche chiudere. Non so, Daniele, come vuoi procedere. Va benissimo. Ringrazio tutti i partecipanti, gli spettatori e naturalmente i relatori, quindi tu, il professor Faba e tutte le persone che hanno contribuito anche con le loro testimonianze alla riuscita di questo evento. Come dicevi, spero e penso che... Stanno arrivando delle... Dei complimenti, quindi... Dei complimenti. Ah, i complimenti. Dei ringrazio a me. Abbiamo, come dire, abbiamo sciolto il ghiaccio dicendo non vogliamo più le vostre domande, quindi stanno arrivando messaggi di complimenti all'Africa. Vabbè, se oltre a complimenti avete curiosità, noi siamo qua, diciamo. Questo lo sapete. Altrimenti sì. Daniele, prego, scusa. Non ti voglio interrompere. No, no, no. Semplicemente di nuovo un ringraziamento a tutti per la partecipazione e arrivederci sperabilmente a presto di persona nelle nostre aule per seguire i nostri insegnamenti, i nostri corsi. Grazie ancora. Nelle aule e nei nostri laboratori. Assolutamente. Il messaggio è stato questo, è stato forte e chiaro da parte del professor Famba nelle nostre aule e nei nostri laboratori. Ricordate i ragazzi, corsi di laurea in ingegneria industriale ce ne sono tanti in Italia. In molti di questi casi voi i laboratori li vedete da lontano e non li toccate. I nostri studenti mettono mano ai laboratori, quindi fanno un'esperienza che è questo. Secondo me è questa la differenza peculiare rispetto ad altri corsi di laurea magistrale sempre in ingegneria industriale. Ok? Aule e laboratori. Bene, allora arrivederci a tutti e buona prossima giornata. Arrivederci. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.